Che deve fare? Deve preoccuparsi di quello più bisognoso, più debole. E Antonio, il commerciante? Ma come, il camiciaio? No, è Umberto, lo scrittore. Ancora, ancora! Ma mi vuoi proprio mettere con le spalle al muro, fino in fondo, fino a me, fino all'ultimo! Basta, basta! Dove? Sienti, ma è buono. Ascoltami bene, non ne parliamo più poi, va bene? Ascoltami, sediti. Io ti ho voluto bene, con tutte le forze della vita mia. Ai miei occhi eri un Dio. E ancora ti voglio bene. E forse più di prima. Ma non devi domandarmelo più. Non posso dirtelo. No, non posso. Perché, per il bene che ti voglio, in un momento di debolezza, sarebbe la nostra rovina. Ma non hai visto che non appena ti ho detto che l'operaio era tuo figlio, tu subito hai pensato ai soldi, il capitale, il grande negozio. L'interesse li metterebbe uno contro l'altro. Sono tre uomini, non sono tre ragazzini. E poi, tu poi, giustamente, pensi, i soldi sono i miei. E perché? Non posso dirgli che sono suo padre. Gli altri due. Chi sono? Che diritto hanno? L'inferno. Senti. Il bello dei figli noi l'abbiamo perduto. I figli sono quelli che si tengono in braccio quando sono piccolini. Che ti fanno preoccupare quando sono ammalati e non sanno dire cosa si sentono. Che ti corrono incontro con le braccine aperte, dicendo papà. E quando tornano da scuola con le manine fredde e il nasino rosso e ti chiedono la bella cosa. Ma quando sono uomini, quando sono grandi, o sono figli tutti, o sono nemici. Domenico. Il Signore ti ha dato tutto, salute, denaro, tutte cose. Saresti stato l'uomo generoso che avrebbe fatto bene a tre disgraziati. Io non ti voglio male. Lasciamo le cose come stanno. E ognuno se ne va per la sua strada. e ognuno se ne va per la sua strada. Grazie.